Intanto Miroglio è un'azienda che ha una storia, nel senso che quest'anno compie 70 anni, insomma verrà poi anche un po' celebrata la cosa quest'estate e ha una storia che nasce dall'industria tessile, come la tradizione, ma poi subito fino agli anni 50 affianca la produzione dei tessuti la produzione di capi di abbigliamento, di capi di abbigliamento femminili, che poi sono rimasti fino ad oggi la specialità della casa. Quanti negozi ha oggi? Dagli anni 90 appunto noi abbiamo iniziato la trasformazione da azienda manifatturiera ad azienda retail, arrivando oggi ad avere circa 1.100 negozi monobrand, soprattutto in Italia, ma con delle presenze importanti nella penisola iberica, in Russia e in diversi altri paesi europei. Vorrei ricordare anche la predilezione per la gestione diretta. Sì, di questi 1.100 negozi, come ricorda giustamente Armando, la maggior parte sono la gestione diretta per una scelta molto consapevole, precisa, che noi abbiamo sempre fatto, di avere soprattutto in Italia come dire un controllo pieno, diciamo, in particolare, credo che oggi sia importante, di che cosa? Di come noi ci presentiamo alla consumatrice e, diciamo, oggi anche dei dati della consumatrice, che poi è un po' una conseguenza. Prima battuta le condenserei in due grandi assi. Da una parte aprirsi all'e-commerce, banalmente. Quando è stato parlato il primo sito? Diciamo, il primo sito di Motivi è stato il primo marchio, non a caso, perché Motivi, nella nostra idea, è quello che si rivolge alla consumatrice più giovane, ed è stato varato nel 2010-2011. E poi a seguire tutti gli altri brand, quindi compreso anche, per arrivare un po' all'estremo opposto della nostra gamma di clientela, che è Elena Mirò. Il primo asse, dicevo, l'e-commerce, e l'altro il tema del CRM, che a un certo punto abbiamo deciso, avevamo, diciamo, in particolare su Elena Mirò, lì è significativo che siamo partiti dall'altro estremo, avevamo una tradizione di fidelizzazione, di costruzione della relazione con la cliente, ma a un certo punto abbiamo voluto, da una parte, beh, ristrutturarla e dargli una sistematicità diversa, e dall'altra parte abbiamo voluto affrontare con dei piani differenziati tutte le nostre consumatrici, quindi partendo da, appunto, dai costruzzi motivi, oltre a Fiora e Lubino, e tutti i brand retail. Per arrivare ad avere che cosa? Ad avere quello che dal nostro punto di vista è il primo tassello, che sembrerà, è un po' il fondamento, però è importante, che è quello di avere una visione unica della cliente. In particolare noi abbiamo, tra le caratteristiche dei nostri punti vendita, che non sono punti vendita enormi, e questo spiega anche perché diamo grandissima importanza alla relazione costruita a 360 gradi, digitale, fisica, eccetera, e spiega anche perché abbiamo lanciato, forse l'avrete letto, un programma molto importante di rinnovamento dei negozi, 300 in 300, che sta comportando un investimento importante, ma perché crediamo che, insieme al digitale, perché la tecnologia è l'altro grande asse, quell'asse di 10 km di vetrina, delle persone che ci sono dentro, eccetera, sia fondamentale. Di conseguenza, quando poi, per esempio, quest'anno abbiamo fatto un progetto molto importante per introdurre la tecnologia RFID sulla catena di Fiorella Rubino, sui 170 negozi, voglio dire, obiettivi fantastici in termini di efficienza, prospetticamente obiettivi, secondo me, importanti dal punto di vista anche della relazione con la cliente e dell'engagement, perché l'RFID poi ti porta anche lì, e intanto... Poi immagino supply chain, antitaccheggio, cioè è legato poi tutto. Sì, sì, è nato come un progetto, diciamo, di, lo definirei così, di operations di negozio, di logistica di negozio, perché questo era l'obiettivo fondamentale. Però, per usare una metafora che ho sentito in questi giorni, fare progetti RFID è l'equivalente di costruire una strada. Cioè, tu costruisci una strada, su cui poi deciderai che cosa far viaggiare, no? Però questo è un po' il concetto. Dicevo, quando poi siamo andati nella pratica dei 170 negozi, c'erano 170 negozi tutti uno diverso dall'altro. Diversi perché la pianta del negozio è diversa, perché il wifi, che credevamo essere perfetto in tutti i negozi, magari non lo era, eccetera, eccetera. Quindi quello che dico è che i retailer devono affrontare questi progetti su larga scala sempre avendo ben presente la progressione degli sforzi che fanno. È inutile costruire un tetto su una casa che non ha fondamenta, da questo punto di vista. Sul tablet, avete messo a disposizione i tablet agli assistenti di vendita? E se sì, quanti e che cosa ci stanno facendo? Abbiamo messo un tablet in ogni negozio, quindi uno per. Ci stanno facendo diverse cose. Il tablet è nato per una ragione molto, che può sembrare banale, che era quello di erogare dei contenuti di e-learning. Noi avevamo i negozi piccoli, erano solo un pc di cassa e quindi questa cosa. E poi di lì è nato tutto, nel senso che oggi il tablet è usato, è lo strumento fondamentale su cui usano Workplace, ovviamente col fatto anche di poter fotografare, eccetera. usano strumenti di Office Automation e poi usano per esempio anche, abbiamo messo a disposizione sul tablet le informazioni del CRM, quindi una semplice app, loro hanno la possibilità di vedere della consumatrice riconoscendola con la fidelity, eccetera. Tenendo conto che il 70% dei nostri scontrini è fatto a clienti fidelizzati, quindi è un caso d'uso concreto. Hanno la possibilità di vedere quello che dicevo prima, che è il primo tassello, tutto la loro storia di acquisto, cosa hanno comprato, le foto di quello che hanno comprato, e le campagne che abbiamo fatto nei loro confronti. Se il prodotto non è in negozio? Se il prodotto non è in negozio, hanno la possibilità di acquistarlo dal sito e-commerce con una procedura piuttosto semplice e quindi diciamo in questo senso non parlerei nel nostro caso di allargamento di range perché noi tendenzialmente tendiamo ad avere lo stesso assortimento online e offline, però per il discorso delle buche tagli oppure per particolari momenti della stagione è una cosa che vediamo proprio ha dei picchi, tipicamente verso fine stagione quando cominciano il search book Italia vediamo che questo strumento è molto utile a fare.